Allora, dove vai di lì? Un altro, gira! 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 Giù! 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 No, non si fermava! Vai, vai, che tanto... No, non si fermava! No, non si fermava! No, non si fermava! No, non si fermava! Non si fermava! No, non si fermava! È un velocello! Che discesi! E, opp! Qua sotto è! ah e dove è caduto grazie